Oggi abbiamo assistito alla presentazione di un bellissimo evento quando la cultura incontra lo sport, come è stato presentato oggi, noi non possiamo che essere contenti ma è inutile dire che come Camera di Commercio dipendiamo fondamentale promuovere e investire in quelle che sono tutte le iniziative sportive del nostro territorio la Fredo Associazione Fredo Vindano va sicuramente rappresentata come un fredo che è capace di fare noi ci avviciniamo a un importantissimo evento che proviene da Trevalli e ci chiederebbe a sottolineare di questa iniziativa dove ha portato per ora la società Fredo Vind ad avere un posto all'interno della Camera di Commercio che noi abbiamo denominato un po' la Casa dello Schiac abbiamo fatto in bando, aperto, cosa abbiamo chiesto a chi sia interessato di poter entrare all'interno della nostra struttura con degli spazi di diti per poter promuovere lo sport anche nel cuore di oggi